buon pomeriggio a tutti marco pt questo dovrebbe essere una live sul condizionamento ricordo una richiesta di alessandro dagaro mi pare inerente il condizionamento per la presa uncinata nello stacco da terra è una domanda che viene fatta sempre più spesso io ho fatto anche diversi video a riguardo però a questo punto mi rendo conto che forse forse meglio interagire direttamente col pubblico e andare man mano ascoltando domande risposte allora intanto un'introduzione sulla presa uncinata la presa uncinata si usa soprattutto per ovviamente lo stacco da terra io però la utilizzo quando faccio rematori molto pesanti ciao giorgio io faccio lo yates in ripetizioni 130 140 chili e uncinare il bilanciere in rematore mi dà un bel vantaggio anche perché io posseggo anche i nastri le fasce per la presa ciao daniel ma sinceramente mi stufo star lì a legarmi metto il pollice e risolvo allora con il problema della presa uncinata la presa uncinata in buona sostanza va a comprimere l'articolazione del pollice tra le cosce bilanciere quando si fa lo stacco da terra e si arriva fino in cima con bilanciere davanti alle cosce si crea una specie di ganascia di compressione tra il bilanciere e la coscia quindi l'articolazione davanti e schiacciata dal bilanciere e dietro c'è la coscia che fa da spessore quindi c'è una certa sofferenza all'inizio però una volta che l'articolazione si robustisce una volta che si forma un callo sulla superficie del polpastrello ma è assolutamente normale fare stacco da terra anche con carichi molto pesanti con la presa uncinata senza patire dolore senza patire sofferenza nel mio caso è stato è stato un processo che è durato qualche settimana io stacco uncinato dal 2017 più o meno come sono quattro anni che stacco in uncinate non ho nessun tipo di problema e nessun tipo di fastidio ciao davide poi mi rendo conto che non sia per tutti io anche purtroppo collaborato con un soggetto che stare trascorsi comunque sono collaborato anche con power lifter agonisti che tirano ancora lo stacco da terra in presa in opposizione quindi in presa mista la presa da mazza da baseball per capirci con un palmo supinato un palmo pronato è una presa che comunque provoca assimetrie poi se una persona sa gestirla il rischio di lesioni al tendine del bicipite è ridotto però comunque la presa asimmetrica di sé di per sé io sono stato ispirato a provare la presa uncinata da juri belkin quando belkin in france il record mondiale di stacco da terra di categoria di peso nel 2018 mi pare se ricordo bene correggetemi se sbaglio era 2017 18 2015 forse non lo so e lì in france il record no 2018 in france il record con 440 kg in doppia uncinata quindi doppia prona uncinata io ho pensato l'avranno anche squalificato in ipf in ipf per doping però il doping c'entra poco con queste cose qua se lui tiene in mano quattro quintali e mezzo in uncinata si vede che è possibile spostare la soglia del dolore molto molto in alto io la presa uncinata la usavo da pesista con strappo e slancio risparmia comunque energia è un'ottima soluzione però nello stacco da terra con quei carichi lì cioè nello stacco da terra si alta di più che in strappo e slancio quindi uncinare uno stacco da terra così pesante cazzo richiede una certa freddezza anche io quindi mi sono cimentato pian pianino e ho cominciato a lavorare esclusivamente con la presa uncinata per fare i miei massimali non consiglio sempre nitro color nitrico clorico hai visto le mitiche prese miste del signor marcello ferri io ho fatto io ho fatto un fatto un video su marcello ferri di recensione mi ha chiesto ma onestamente non sono troppo interessato al lavoro di marcello ferri visto che si allena con dei cavalletti da muratore non è tanto il mio settore insomma gino zio festering live su twitch ha detto che i tuoi 160 kg di panca rimbalzati sono 130 confermo ma parli di un soggetto che famoso per essere un vulcano di stronzate uno che rubava nei locali di che cazzo parliamo io guarda una critica che posso capire perché viene da un cervello delle dimensioni penso di una noce quindi comunque sono lietissimo di smentirlo quando vuole facendo 140 150 col fermo ed è lo stesso giochetto che gli è costato una colossale l'ennesima figura di merda quando andrea sabio faceva 184 in panca piana e dissero ah tu col fermo fai neanche 160 dopo pochi giorni ha fatto un 180 con fermo dimostrando ancora una volta qual è lo stato pietoso del di questi soggetti insomma poi è soltanto in italia che c'è sta roba qua purtroppo è questa gente qua fa tanto tanto male all'italia io ho lavorato con dei coach russi io prendevo coaching da yuri belkin l'anno scorso yuri belkin è un signore purtroppo gente così trascina giù nel cesso l'italia come reputazione io poi sono anche molto molto sorpreso che soggetti del genere vengono tesserati in associazioni nazionali io ho conosciuto anche il presidente del fipl nel 2013 un signore molto distinto molto gentile serio pare si chiami sandro rossi non capisco come possano tesserare certi elementi che sono affari loro io non sono un powerlifter e neanche mi interessa marcus 90 la presa in opposizione da più chilogrammi nello stacco rispetto all'uncinata secondo me no opinione avvallata anche da kyler wulam ecco vedete io parlo di belkin kyler wulam i personaggi citati poco fa il personaggio citato poco fa neanche sa di chi sto parlando per farvi capire il tenore culturale di questi soggetti kyler wulam chiama la presa uncinata la limitless grip e c'è anche un bellissimo tutorial di cliff darden sempre sulla presa uncinata in cui spiega che il pollice va inserito molto in profondità quindi non non così se no ci si frattura l'unghia ma molto in profondità candidosi cosa ne pensi delle fascette ma se uno fa bodybuilding può usare tranquillamente se uno si vuole allenare per la forza secondo me l'uso deve essere più limitato poi yuri belkin stesso usa le fasce per la presa quando si allena perché non vuole martoriarsi si vede troppo il pollice però in gara stacca col pollice fa look grip colden titan al trollino di prima poveretto mi spieghi una cosa cosa vuol dire colden io capisco che non conosci l'italiano ma non conosci neanche l'inglese cos'è colden ciao gianni gianni corti golden o cold freddo o golden golden dorato ma non è un insegnante di sostegno che ti possa dare una mano un povero cristo che ti aiuti vabbè luigi marotta come andata la cena con max molto bene sono passato a fare un giro era in programma nel live purtroppo non si è fatta perché ma lo capisco anche era abbiamo preferito cenare invece un bicchiere poi andare a casa io comunque non avevo nemmeno io un programma di fare live con max fatto un giro per andare a trovarlo così patrick bateman a cena con jena arci come si fa strappare o slanciare partendo dalla presa uncinata da quello che scrivi deduco che tu non abbia mai fatto né strappo né slancio prova vedrai che ci si riesce tranquillamente tutti i professionisti tutti gli agonisti di pesistica fanno strappo e slancio in massimale con la presa uncinata comunque anche se il carico non è pesante come un carico da stacco risparmiare energia è sempre la cosa giusta da fare del fenomeno il one come fai ribellino ad allenarsi con le fascette per staccare 4 45 glielo chiesto anch'io quando ero in coaching con lui gli ho chiesto anch'io prima detto che non ha nessun problema di dolore pollice non ha nessun problema condizionarsi o non condizionarsi lui stacca tutto l'anno oltre una certa soglia con le fascette poi in gara mette il pollice avrà soglia del dolore è talmente alta che non ci fa neanche caso noi invece siamo in italia la soglia del dolore più bassa si vede comunque io stacco serenamente col pollice che non ho nessun dolore poi ci sono altri personaggi che mi ricordo che lavoravo con ho offerto le mie consulenze a zio fester e sto quasi lagnava come una donnina mestruata no perché sai sento la scossa brutta il pollice quando faccio l'uncinata io gli diceva cos'è la scossa brutta che cazzo dici un film di maccio capatonda la scossa brutta no perché sai deve essere un nervo e lì cosa fai come fai a rispondere allarghi le braccia prendi atto e lasci perdere perché poi ero quello che mi lamentava quello che si lamentava del programma il programma l'ho fatto sto qua per staccare con l'uncinata madonna ma neanche gli avessero amputato una gamba senza anestesia mamma mia no che whisky no è un vinello così tranquillo siamo a sabato mi concedo un piccolo sgarro danci ma c'è sta voce qua adesso non so si può dire da castrato che sembra mario giordano quando parla quel mamma mia vabbè marcus freddato freddato uguale cold non lo so vabbè tanto di chi stiamo parlando allora torniamo sul tecnico marco s per un trainer meglio essere un portento di genetica o un catorcio che si è dovuto sudare nel singolo miglioramento questa domanda filosofica allora dal punto di vista della conoscenza è meglio essere catorci perché così si è obbligati a distillare una tecnologia potentissima di allenamento se uno invece un fenomeno genetico si gode di più lo sport non ha quello stress costante di perfezionare i programmi sono due situazioni che hanno i rispettivi vantaggi e altre sì i rispettivi svantaggi il giovane cold era un libro le venture del giovane olden non l'essi a scuola quel libro lì non mi ricordo l'autore forse salinger se ricordo bene sono passati vent'anni penso 15 dai nanto saiken buon pomeriggio marco secondo te andrà in futuro potrà arrivare a sparare 200 kg in panca ma e dipende da quanto riesce ad aumentare anche di peso perché si parla di un atleta che sposta carichi per me veramente inconcepibili anche i polsi più fini dei miei peraltro però ai gomiti che sono più grossi quindi però io l'ho visto veramente maneggiare carichi molto elevati e penso che il suo unico limite sia l'ipertrofia funzionale come si dice in gergo cioè quanto quanta muscolatura può sopportare il suo scheletro comunque un atleta veramente molto ben ottimizzato poi è fortissimo in tutto cioè fai 100 kg di military press tranquillamente fa ha fatto delle trazioni in passato quando le allenava con 80 kg in cintura impresa prona dove fa curling con il bilanciere per me inimmaginabili maneggia tranquillamente per delle serie 70 kg di bilanciere quindi è molto portato per la parte sopra sarebbe forte anche nella parte sotto e che lui essendo un panchista magari privilegia la panca piana non è troppo interessato a portare in pari anche le accosciate ma sono scelte anche personali qua non è che te la smunto ciao quasar capofitto si buttiamo a capofitto sul condizionamento articolare pronti sono qua posta ragazzi chiedete vi sarà dato 80 impresa prona potrebbe fare street lifting sì certo allora il condizionamento passa da un urto meccanico o comunque una pressione meccanica su un articolazione o su un segmento osseo io ho fatto anche molti anni di muay thai non moltissimi però quando combattevo facevo condizionamento tibie quindi io per calciare a piena potenza contro le braccia o le gambe dell'avversario contro la scatola cranica dell'avversario volevo avere una tibia che fosse più spessa più grossa e più solida in modo tale anche da poter parare i calci che mi venivano sferrati quindi preparare un calcio diretto alla mia gamba alla mia coscia io alzavo il ginocchio mettevo la tibia in verticale e tibia contro tibia bloccavo quel tipo di calcio quindi sia per difesa che per offesa nel muay thai si condizionano le tibie anche la stessa cosa va per i gomiti quindi the same goes for the elbows quindi il becco dell'olecrano questo osso qua viene utilizzato per percuotere la scatola cranica se voi per potete una scatola cranica con un pugno rischiate anche di fratturarvi se per potete una scatola cranica con il gomito ed entrate in questo modo sulla scatola cranica a farsi male è lui non voi nelle riesce da strada spesso può capitare che colpendo a mano nuda e a dita libere contro un cranio ci si rovini la mano insomma comunque nella pesistica il condizionamento è molto importante per appoggiare grossi carichi anche sulle clavicole per fare lo slancio per fare il front squat anche per appoggiarci un bilanciere da lento avanti nanto saiken appena fatto 116 di military press e se lo appoggia tranquillamente la clavicola all'inizio era un po titubante ma oggi ha fatto 116 di overhead press partendo dalla clavicola dell'esterno claveare quindi da qui non da davanti proprio da sopra il bilanciere vi entra nella trachea ed è appoggiato sopra l'esterno claveare questo richiede un condizionamento del tessuto almeno corticale dell'osso giorgio milenolo sono ancora condizionante le tibie o smettendo torno come in origine come in origine proprio come in origine no io ho avuto diverse micro fratture l'osso è rimasto più spesso però non ho comunque quel livello di condizionamento che avevo da agonista rimane un 20 30 per cento ma è chiaro che oggi non potrei sostenere quel tipo di impatto c'è resto proial 86 hai già in mente il titolo del libro che scriverai pensavo di chiamarlo il libro protocollo tetra io sono abbastanza ossessionato dagli archetipi dei simboli delle geometrie quindi cerco sempre di avere programmi che rispecchino uno schema geometrico cerco sempre una coerenza tra il numero di cercizi il numero di serie se non diciamo un po autistico da questo punto di vista però guarda il titolo vero e proprio immagino che come titolo in sé protocollo tetra sembra quasi un film di fantascienza un film di spionaggio quindi onestamente non ho ancora l'idea troppo chiara sul titolo golden titan io l'ho capito che provocate io vabbè io per compassione a volte vi rispondo anche ma dopo un po rompete anche le balle dai non avete il vostro canale lì di stronzate di andare a vedere allenamento anaerobico all'attacido a frequenza multipla giornaliera è troppo lungo oddio anaerobico all'attacido vuol dire bodybuilding range 6 10 6 15 tutti i giorni su tutto il corpo in multiserie insomma deve avere una gran genetica o un bel farmacista o entrambe le cose non lo so tanto tempo libero tutto è possibile una volta io ascoltavo delle interviste di giovanni cianti diceva che lui in passato arrivava ad allenarsi anche otto ore al giorno per il bodybuilding intendo poi non lo so ascoltavo anche pier venturato che diceva che i campioni sulle riviste mostrano alcuni programmi ma in realtà nel loro privato si allenano anche di notte io ragazzi in questo mondo di di specchi e fumo faccio anche fatica orientarmi ecco io so che i programmi per la forza che funzionano richiedono comunque molte molte ore al giorno se poi si va con i professionisti se poi si parla di professionisti dopati si alza ancora la soglia della fatica ecco giorgio milanolo aspettiamo il libro qualunque titolo abbia grazie giorgio alessandro giuseppe scalia da ex weightlifter posso confermare il condizionamento delle clavicole che si esternava con delle callosità sì ma niente di orribile non è che vi spunta fuori dal colletto dell'apollo ma c'è un certo livello di condizionamento col dentai grazie finalmente grazie young dagger buongiorno marco secondo te su che parti da condizionare deve concentrarsi un pugile io non ho mai fatto pugilato in vita mia ho fatto arti marziali e quindi non posso risponderti nello specifico come non potrei risponderti se tu fossi un karateka che mi chiedesse come condizionare le nocche sul makiwara archic sai che qualcuno potrebbe dire che la tua grande meticolosità oltre a capito se scarse se gira sta voce ma con gli straps sollevi di più nessuno ma guarda la mia uncinata tiene molto bene con gli straps non penso che avrei nessun vantaggio sono sincero quasar women ti sei allenato oggi no mi allenerò in serata quando scende un po' la temperatura patrick bateman come hai sostituito squat stacco e military in chi non poteva caricare la spina dorsale bella domanda patrick allora un trucco te lo voglio regalare un esercizio parlando di esercizi comunque con i bilanceri o non vincolati a delle macchine lo stacco con la trap bar ha consentito a molti soggetti con delle lesioni spinali lesioni insomma anni del disco per capirci di poter caricare anche carichi consistenti senza conseguenze negative manco lukaku non ti manca fare arti marziali ma ormai è più che altro uno studio teorico uno studio teorico faccio qualche seminario ogni tanto ma buttarmi nella mischia di nuovo rischiare lesioni e poi le arti marziali comunque richiedono un certo impegno anche dal punto di vista aerobico quindi si concilia male con il lavoro per la forza per la massa c'è un compromesso da fare insomma ecco poi se voi vedete quei campioni super muscolosi di arti marziali che conservano tutta la massa muscolare durano cinque round di fit quindi ragazzi secondo me non sono nato ecco jack ciao marco hai detto di essere vegano e sei più di 90 chili io non ho mai visto gente pesante vegana e massosa come te forse un'ottima genetica no se tu vedessi mio fratello lui pesa 75 chili ha iniziato da poco ad allenarsi ma no non ho un'ottima genetica le ottime genetiche le ho viste sono altra roba semplicemente c'è questo mito che circola nell'ambiente secondo il quale la dieta vegana è carente di aminoacidi e carente di queste carenti la dieta vegana tutto quanto quello che vi può servire smettetela di finanziare commercio di animali allevati in modo intensivo per nutrire i vostri quattro muscoli ci riuscite benissimo prendendo quello che vi serve dal mondo vegetale ho visto di recente su una pagina vegan le condizioni degli allevamenti di una fabbrica di formaggio non lo so carne non gli animali immersi nel loro stesso letale una roba se avete un minimo di coscienza almeno informatevi su come sono su come sono allevati gli animali in che stato pietoso vivono e muoiono mettetevi una mano sulla coscienza e fate poi fate quello che vi pare non voglio evangelizzare nessuno io ho smesso di finanziare quella roba e da vegano non ho avuto nessuna carenza di però io so come nutrirmi io sono uno che ha studiato alimentazione ho fatto la tesi di laurea scienze motorie per carità ma ho fatto la tesi di laurea sulla dieta zona che si basa sull'ascio ormonale insulina glucagone che si basa sulla ripartizione dei macronutrienti nella mia nei miei di nutrizione quella professoressa pogliaghi silvia ho fatto anche ho dovuto capire quali sono i mattoncini delle proteine gli aminoacidi essenziali che sono compatibili con la massa muscolare umana se vuoi per vegano intendete un pasta asciuttaro che mangia soltanto pasta asciutta con un filo d'olio è chiaro che ha delle carenze enormi questo è ovvio ma una persona che si nutre per avere delle performance atletiche è obbligata a fare i conti con il fabbisogno globale dell'organismo big bang se la dieta vegana è un lusso no non è vero è falso quello che dici con la dieta vegana si risparmiano soldi costa parecchio mangiare carne pesce tutti i giorni tant'è che a volte si comprano le sottomarche che vengono da allevamenti intensivi di bassa qualità con degli animali che vengono trattati neanche come bestie appunto peggio che come bestie smettetela di diffondere informazioni false perché basta nitrico clorico conosco vegan che mangiano uova e latte se non provenienti davamente intensivi non sono vegan se non mangia latte uova non è vegan posso capire uno che si definisce vegan che fa uno sgarro perché il contadino gli porta un sacchetto di uova vabbè ma essere vegani è uno stile di vita posso capire lo sgarro perché c'è l'amico che ti porta l'uovo da farti al pentolino va bene non sono quelle le cose che cambiano lo status il miele lo mangiano i vegani mi chiede ceresto fi come cazzo ti chiami tu ceresto proial no il miele è vomito di ape e quindi essendo un derivato animale non viene consumato dai vegani archic di sicuro mangiare carne è un lusso che il pianeta non può permettersi finalmente un commento sensato a riguardo certo che così gli alimenti intensivi impoveriscono molto il pianeta secondo quello che mi risulta ma a parte quello io non voglio evangelizzare nessuno però archic il tuo intervento è molto importante il fenomeno one ci vuole più tempo per condizionare i pollici o le clavicole ma sono condizionamenti i pollici ti direi ma sono condizionamenti piuttosto rapidi condizionare un pollice piuttosto veloce come lavoro richiede qualche settimana le clavicole più o meno anche lì sì non c'è tanta differenza forse i pollici un più perché c'è anche il discorso del callo sul polpastrello ma è molto più lungo il condizionamento delle tibie perché lì devono essere proprio durissime le tibie devono essere d'acciaio tutti quando porti un calcio in testa l'avversario l'effetto deve essere quello di una spranga d'acciaio sulla scatola cranica o sulle cervicali carlo sant'ambrogio secondo te è un compromesso utile può essere assicurarsi non ci sono compromessi uno deve fare le proprie scelte manco lukaku marco fa ancora il dip alle parallele in questo periodo no mattia oliviero buon per te buon compleanno in occhi alessandro giuseppe scalia vegano e mirko bergamasco ex nazionale di rugby è buono ottimo parlando anche di condizionamento quasi va nel mondo acido alcalino allora la dieta vegana è sostanzialmente più alcalina quindi più basica richiede quindi un turnover proteico meno elevato per quanto riguarda il tessuto osseo quindi dato che il vostro corpo alcalinizza l'organismo smontando calcio e fosfato se voi non avete una dieta troppo acida il vostro corpo sacrifica meno tessuto osseo quindi i vegani hanno le ossa più solide cioè meno decalcificate questo sempre secondo le mie fonti di riferimento delle smonto news come pensi del frullato di lenticchie buono sono famose le lenticchie per essere dei legumi ricchi di minerali di fibre se si fa un frullato hai la mia approvazione francesco mencobone ho visto che c'è un combattente di giugizio vegano ah sì intervista da cicalone mi pare che sia anacoretta se ricordo bene mi fa molto piacere vedere che ci sono sempre più atleti vegan anche in discipline di forza come lo strongman bohomian e anche in discipline di combattimento come anacoretta il giugiteiro Quasar women bere il latte può essere una buona mossa a tal proposito? no bere il latte vaccino latte di mucca non arricchisce di calcio le tue ossa perché il latte contiene proteine acide che smontano le ossa questo sempre secondo le mie fonti di riferimento attenzione disclaimer non sono un medico nutrizionista non sono un biologo nutrizionista cito quelle che sono le mie esperienze e le mie opinioni chiaro? Alfonso Amato il latte di soia lo consideri un alimento valido? sì ma non validissimo perché qua in effetti bisogna dire che lo spettro amminocidico ha qualche carenza poi come gusto è anche buono quello aromatizzato al cacao magari è buono ma io a questo punto mi faccio direttamente un frullato proteico io prendo le iso vegan sport protein della pro nutrition se vi interessa comprare sul sito ho il codice sconto del 10% marcopt55 andate su www.proteinstore.it comprate tutto quello che vi pare marcopt55 sconto del 10% Simone Campana ne vogliamo parlare del lento avanti con cintura e polsini? no non vogliamo parlarne grazie ho capito comunque ma meglio di no Carlo Sant'Ambrogio Marco sono studente di matematica magistrale mi piacerebbe fare un percorso inerente le scienze motorie che tu sappia esiste un master al riguardo conviene iniziare una nuova laurea ma potresti chiedere se c'è una compatibilità so che in inghilterra è possibile passare dalla laurea a un master non attinente senza fare il percorso precedente inerente alla seconda disciplina e il chimico gli aminoacidi sono acido basi? vi do un'informazione sono anfotere sono anfotere o anfotere mi dice il chimico tu che sei la mia bibbia cazzo com'è l'accento di anfotere o anfotere? se puoi darmi questa informazione perché quando sei in onda io ti uso un po' come stampella Big Bangs se proprio vogliamo essere vegani mangi tanti prodotti tutti bio? no, non necessariamente prendo prodotti bio, costano parecchio un tempo compravo qualcosina da Natura sì la marca Alce Nero, queste cose qua costosette in effetti, quello sì no, non vado necessariamente ma guarda che costa tantissimo anche la carne bio costa tantissimo anche i prodotti animali e i loro derivati di una certa qualità hanno un costo molto superiore Dan Cic, il bio non esiste, potrebbe anche essere vero Ar Cic, il chimico, però alcuni aminoacidi contengono più zolfo e qua si scatena la bagarre e hanno in carico acidogeno maggiore forse hanno un carico, ma comunque sì qua vai che c'è il ring tra i chimici e il chimico, anfotero ok, anfotero, grazie Jack, ho provato varie volte ad eliminare la carne ma ho notato debolezza ebbè Jack, se non sai come rimpiazzare la carne è certo che noto debolezza, è perfettamente ovvio Gianni Corti, cosa pensi? 2,38 in panca, categoria 95, senza maglia boh, io so che Sapagionco va fatto 2,60, 2,70 in categoria simile ma lo so, dipende da tante cose non mi intendo non sono un cronista di powerlifting non mi intendo di telecronache non saprei risponderti Marco S, puoi allenarti solo 3 giorni a settimana? che routine faresti? beh, dipende da quanto tempo mi dai dipende dal tempo di permanenza che puoi darmi in palestra Giorgio Milanoro Marco, pasta ne mangi? se sì, con che condimento? sì, pasta ne mangio pasta ne mangio mi piace molto il pesto alla genovese e quello chiaramente senza formaggio sì, diciamo che pasta ne mangio Alfonso Amato top proteine vegetali sono pisello, canapa e mix di cereali e legumi beh, allora, le proteine che prendo io della Pro Nutrition hanno riso, pisello e canapa quindi hanno una buona copertura aminoacidica altre domande sul condizionamento non vorrei uscire dal seminato sennò diventa una live sul veganesimo e non vorrei mancare di ridere non vorrei perdere di vista lo scopo Giorgio Milanolo sono di Genova, viva il pesto bene Tommaso Falco cosa consigli per il condizionamento delle tibie? consiglio innanzitutto partire con il sacco il banana bag, quello per calciare è più lungo del sacco da box normale e ha più deposito sul fondo quindi calciare la parte bassa del sacco consente di cominciare con un buon condizionamento poi si passa a tecniche un po' più dure Daniele Siragusa mi sei comparso nella messaggistica privata per quanto mi riguarda puoi tranquillamente esporre la tua esperienza qui in live Alfonso Amato ok, colpi di tibia e gli pneumatici li hai mai provati? no no io facevo sacco pesante facevo i pao e poi mi condizionavo con le canne di bambù mi rullavo le canne di bambù sulle tibie a volte usavo anche bottiglie di vetro vuote e poi soprattutto la cosa che nessuno considera è che il miglior condizionamento è proprio lo sparring condizionato si chiama quindi eseguire delle combinazioni attacco e difese in cui si fanno i blocchi tibia su tibia ripeto, sparring condizionato e non libero se no lì ci si fa del male quindi il miglior rasoio la miglior pietra su cui affilare il vostro rasoio è la tibia umana cioè il miglior condizionamento si fa proprio tibia contro tibia secondo me si parte con il sacco si prosegue con il bambù ma poi la cosa ideale è proprio osso su osso chiaramente con le dovute progressioni e le dovute cautele poi anche nella box tailandese si condizionano anche le ginocchia cioè tenete conto che quando voi andate in corpo a corpo con un avversario nelle fasi di clinch vengono sferrate ginocchiate alle costole all'addome al torace talvolta talvolta anche al viso quando voi con la presa a farfalla trascinate in basso il viso dell'avversario e colpite col ginocchio il vostro ginocchio può impattare sul naso sul mento sugli zigomi quindi avere un ginocchio bello condizionato è importante ah si vi ricordo che nella Thai box ci sono le ginocchiate perché qualcuno sostiene che la Thai box non c'è stanno le ginocchiate ci sono ve lo dico io ci sono le ginocchiate tranquilli ci sono Giovanni Guastella stavi dicendo di non consigliare la presa uncinata a tutti perché? non l'ho mai detto secondo me chi può fare l'uncinata dovrebbe fare l'uncinata James Blondes il problema del condizionamento articolare è che dopo una certa età le articolazioni iniziano lentamente ma inesorabilmente ad usurarsi non vedo perché lasciarle degenerare ulteriormente comunque è meglio condizionarsi secondo me anche perché sollevare pesi per tutta la vita mantiene più robuste le articolazioni c'è anche il tessuto trabecolare che va rinforzato anche per limitare quella che purtroppo è una malattia invalidante come l'osteoporosi riguardo lo sparring condizionato di tibia contro gomiti ne vogliamo parlare? mi chiede Giuseppe Scaria ma lì io non consiglio di bloccare i calci medi tu ti riferisci ai middle kick hai calci medi da assorbire sul gomito ma è la parte esterna del gomito se tu sei abbastanza bravo abbastanza elastico se è possibile blocca di tibia anche i calci medi altrimenti puoi usare i guantoni in un certo modo però se tu blocchi con le braccia i calci medi ti fanno una finta e ti leva un calcio in faccia perché tu hai le mani basse non magari ti fanno una finta di middle poi vai su con l'hai kick ti becchi un calcio in faccia quindi anche lì io consiglio sempre la vecchia scuola tailandese con lo schermo unico fatta da tibia e gomito insieme cioè una parentesi unica con sotto la tibia e sopra l'avambraccio una specie di schermo però io vengo da una scuola abbastanza tradizionalista Francesco Mencoboni esercizi migliori per un combattente di Muay Thai ma con i pesi ti bastano pochi esercizi in effetti poi sul discorso della preparazione atletica specifica preparazione fisica con cardio eccetera andare sul ring imparare a muoversi a schivare a combattere è una roba che devi fare a parte ovviamente Bleggi buon pomeriggio Marco è normale alzare più peso nello stacco sumo che in regular essendo un brevilineo come nel mio caso io non so quanto tu sia brevilineo o quanto tu sia longilineo io nasco più come stacchista regular statisticamente nello stacco regular si alza di più i record mondiali di stacco da terra sono stati fatti in regular alcuni soggetti che secondo le mie analisi sono una minoranza lo stacco sumo in stacco sumo staccano di più io non penso che Yuri Belkin stacchi 440 in regular non penso mica secondo me lo stacco standard di norma consente più carico alcune eccezioni staccano di più in sumo poi qua non voglio adesso arrovellarmi in statistiche potete cercare scartabellare dati, gare, riferimenti Andy Wisehole per condizionare le articolazioni in generale può essere utile fare dei periodi con alte rep e basso carico ma sì, magari qualche periodo preliminare ci sta Archie che pigamenti sui pugni e sui polsi possono essere utili per il condizionamento secondo te? beh immagino che tu stia parlando di arti marziali, di Muay Thai, chi è del tuo coach? condizionamento è una cosa che va analizzata col cliente, col soggetto in persona non si può dare il condizionamento così come se fossero dei volantini bisogna studiare anche il soggetto stesso Nanto Seiken ultimamente ho sentito che stanno facendo degli esperimenti inerenti alla creazione di carne in laboratorio l'ho sentito anch'io questi esperimenti questi hamburger che nascono dalla clonazione di cellule animali vediamo un po' come va Marco S oltre alle clavicole per il front quali altre ossa andrebbero condizionate per le altre alzate? ma dipende da che alzate fai se tu non fai lento avanti, non fai front squat, non fai pesistica fai soltanto power lifting nel power lifting il condizionamento non conta un cazzo back squat non richiede appoggio sulle ossa panca piana neanche, stacco da terra nemmeno Manco Lukaku, cosa ne pensi del tricking martial arts? non mi interessa, lo trovo non attinente al combattimento Paolo, ciao Marco, fai stretching? se si quanto tempo gli dedichi in una settimana? io un tempo facevo stretching tutti i giorni per mantenere vive le due divaricate, le due spaccate adesso è un po' che non sto facendo stretching ma ho mantenuto comunque un'ottima mobilità per quello che è il mio repertorio di pesi ancora adesso riesco a calciare a freddo a livello testa quindi al momento non sono così concentrato sullo stretching ovviamente quando facevo arti marziali facevo stretching due volte al giorno appena sveglio la mattina e poi la sera prima di coricarmi Alfonso Amato, tanti dei boxer occidentali usano i calci bassi come primo colpo spesso anche in serie penso sia poco saggio, sono d'accordo con te in occidente c'è più questa mentalità da Dutch lumberjack, calci bassi molto violenti i terandesi raramente si colpiscono le gambe perché sanno che un impatto tibia contro tibia potrebbe anche accorciare la carriera Marco S, mai fatto yoga? ho fatto un po' di ashtanga yoga tanti anni fa ma non è tanto... it is not my cup of tea Telesmunto News, secondo te Marcon che tipo di? non ho capito Telesmunto, parli di Matteo Marcon penso mi hanno detto che ha fatto una live con zio Fester poi boh... Marcon, ma alcuni sarà anche antipatico ma non si può dire che sia stupido, è un ragazzo intelligente faceva il programmatore vederlo lì con zio Fester dava l'immagine proprio dell'intelligenza ferita vedere sto qua in garage non mi piace, sono troppo grosse come si piega il bilanciere questa vocina qua da... vabbè c'era sto... sì, Marcon mi sembrava un po' ecco, così un po' sottotono, un po' depresso ecco, ad avercelo... ad avercelo nei paraggi poi sul discorso... poi non capisco neanche cosa se ne faccia un bodybuilder di... vabbè ciò che Marcon mi pare che faccia bodybuilding poi non... mi pare che gli abbia andato dieci anni sul groppone poi non lo so come ha risolto non vedo quale contributo possa dare zio Fester a Marcon io ero andato da zio Fester per fare un po' di... per imparare quei 4-5 trucchetti da agonista però vabbè, ormai acqua passata Giron Amos l'insinuazione che i dischi fossero meno pesanti del dichiarato ma insomma sono accuse anche abbastanza pesanti io non penso che Marcon usi piastre finte, non lo so, non mi interessa ma... vabbè Marco, che esercizi consigli per chi ha i deltoidi frontali più sviluppati rispetto alla porzione alta del petto? Isolare la parte alta senza coinvolgere i deltoidi frontali? questa è una bella domanda c'è una variante di croci a 30 gradi coi cavi che potresti fare o addirittura una variante di pec deck con omero extra vuotato e schienale angolato che potresti fare per andare a contrarre i fasci starno claveari senza coinvolgere il deltoidi anteriore Capitano Romagna, la tua top... ancora Capitano Romagna, esercizi per la lotta di Brazilian Jiu Jitsu la top 3 degli esercizi devi consultare il tuo coach di lotta di Brazilian Jiu Jitsu e capire quali sono le catene cinetiche muscolari più utilizzate posso darti una dritta però secondo me lo stacco summa può essere molto utile per un Jiu Jitsu guardista un guardiero perché stando sempre sulla schiena e tenendo l'avversario in guardia chiusa avere adduttori molto forti è importante se poi tu sei un choker uno che strangola tanto come ero io se puoi fare un buon triangolo di gambe per soffocare molto velocemente l'avversario e costringerlo a un tap out molto rapido lo stacco summa è molto buono per esempio Alfonso Amato croci, cavi su panca inclinata sì ma la croce coinvolge comunque il delitoide anteriore secondo me la pecdeck con l'extra rotazione dell'omero esclude il delitoide anteriore Alfonso Amato domanda fuori luogo salute dei capelli e veganesimo hai trovato differenze rispetto alla dieta onnivora no onestamente no non sono comunque un tricologo sia chiaro, non sono un tricologo Francesco Mencoboni cosa ne pensi del Vale Tudo è vero, molto in auge in Brasile negli anni 90 un po' crudo comunque, mani nude poca, scarsa tutela degli atleti dominio dei Gracie che usarono appunto il Brasile in Jiu Jitsu era forse più interessante perché era più eterogeneo forse ultimi 5 minuti ragazzi Young Dagger che esercizi consigli perché ah no scusami ah ho sbagliato scusate Manco Lukaku per i calci meglio divaricata frontale o sagittale sicuramente la divaricata sul piano frontale se ti riferisci ai calci circolari sempre che ammesso che tu sappia cosa sono divaricata frontale per i calci frontali è più indicata la sagittale Nanto Saiken mi rivolgo ai fanatici della supercompensazione o ai fanatici dei programmi ondulati di carico e scarico ho fatto 116 di military press stamani dopo 11 giorni di allenamenti consecutivi ogni giorno facevo tutti gli esercizi previsti dal programma di Marco questo dovrebbe far pensare a chi crede che i programmi di stampo sovietico siano gli unici a portare risultati Nanto Saiken che Dio ti abbia in gloria grazie per il tuo intervento Diego Strazzullo ah bentornato Diego ciao Marco come stai? ho provato il ramping secondo la regola del 50% ma in sincerità non mi sono trovato bene mangio un po' di ripetute meglio un po' di ripetute prima eh Diego ma tu sei un mio cliente che con me ha fatto un lavoro anche certosino io ho fatto un video generalista uno come te beh è chiaro che ha bisogno di altri sistemi e non posso fare video caso per caso per questo consiglio sempre di prendere delle coaching poi fate un po' come vi pare Bleggi io sono calvo esistono alimenti che aiutano la riuscita dei capelli non lo so ma so che c'è soltanto una cosa che arresta la caduta dei capelli mi pare che sia il pavimento sto scherzando no andate da un tricologo mi pare che ci siano oggi delle protesi per capelli perfette fantastiche ve le incollano sopra e andate in giro andate in giro come Little Tony oppure come i Duran Duran negli anni 80 gli Spandau Ballet però ripeto non sono uno specialista Rob ciao Marco secondo te per i soggetti con scarsa mobilità fare squat è utile o è meglio dedicare un lungo periodo di sola mobilità? io non credo nella separazione tra mobilità ed esercizio con i pesi bisogna fare un lavoro incessante senza mai staccare la spina sulle accosciate e abituare il vostro corpo a scendere progressivamente di più per questo è così importante avere un power rack con i pistoni di carico ad altezza selezionabile e altrimenti fate il solito triste epilogo del palestraro da centro fitness con le mezze accosciate, il multi power, la leg extension, la leg press per carità 4 muscoli li mettete anche su ma il discorso della flessibilità, dell'atletismo, della coordinazione è tutta un'altra faccenda ultime due domande Alfonso Amato il condizionamento del cranio per le testate viene usato? secondo la mia esperienza io ho fatto un seminario di Lethway con Dave Leduc si prendono a testate i sacchi e Dave Leduc stesso riesce a rompere con la testa delle noci di cocco messe sulla superficie di un tronco d'albero quindi lui appone una noce di cocco su una corteccia d'albero e la spacca con la testata poi le testate non vanno portate dall'alto verso il basso vanno portate in questo modo nascondendo la faccia ve lo dico perché allora ultima domanda Manco Lukaku secondo te quante trazioni libere possiedi? per me almeno 15-20 dipende da che stile con che presa con che range non lo so da molto tempo che non faccio un test di trazione corpo libero si Alfonso Amato sui Dave Leduc è veramente impressionante molto asciutto molto nervoso ha battuto Tum Tum Min nel torneo di Lethway in Birmania si già Quasar Wayaman allenati in live non ci lasciare no ragazzi già immagine di avervi annoiato anche troppo no allenarsi in live no troppi tempi morti non ha tanto secondo me a me non piace come stile Mike O'Earn spesso fa queste sedute in cui si fa riprendere ma taglia i video non è che piazza lì il cameraman si fa riprendere per tutto il tempo del workout Mike O'Earn spesso fa delle sessioni di allenamento ma sono delle semi live cioè fa sto video qua oggi ho spappolato i deltoidi e vedi lui che gira per la palestra fa gli esercizi ma c'è un montaggio dopo cari ragazzi direi che per oggi è tutto grazie per la compagnia alla prossima Alfonso lo speriamo